Ciao a tutti! Nel video di oggi voglio condividere con voi 10 piccoli ma importantissimi consigli per essere belle anche e soprattutto senza il nostro adorato make-up per chi si sa che nei mesi estivi la voglia di stratificare prodotti su prodotti non è proprio il massimo e poi se con qualche giornata particolarmente affosa ci studiamo anche su è davvero la fine vi ricordo che se questa tipologia di video vi interessa e vi piace lasciatemi tanti pollicini in su e iscrivetevi al mio canale per non perdervi i prossimi video e quindi detto questo iniziamo! Il primo consiglio che mi sento di darvi ragazze è quello di riuscire a dormire almeno 8 ore a notte lo so è abbastanza difficile soprattutto in estate però è davvero importantissimo riposare in modo corretto infatti ricarica il nostro organismo, aumenta le difese immunitarie, riduce lo stress e aiuta il nostro aspetto fisico senza nessuno sforzo perché la nostra pelle si rigenera, si purifica, si distende facendoci svegliare il giorno dopo con un aspetto decisamente più luminoso io mi aiuto con l'app data in dotazione del sistema iOS dell'iPhone ma penso che ormai lo abbiano in dotazione un po' tutti i sistemi l'orario in cui volete andare a dormire e l'app in questione non farà altro che ricordarvelo tenendo conto della vostra qualità del sonno e di quanto tempo voi impiegate per addormentarvi insomma ci sono davvero tantissime caratteristiche Il secondo consiglio ragazze riguarda invece l'acqua ovvero bere tantissima acqua è davvero importantissimo lo so che avrete sentito dirlo in giro talmente tante volte che ne avete quasi abbastanza ma ricordarlo secondo me non fa mai male la nostra bellezza infatti proviene proprio dall'interno ed è un'ottima idratazione quello che aiuta il nostro organismo verso un corretto funzionamento depurando il nostro corpo e rendendo la nostra pelle luminosa e quindi evitando poi l'utilizzo di prodotti makeup da stratificare soprattutto adesso in estate che fa caldissimo e un'ottima idea secondo me da seguire è quella di mettere un bicchiere davanti a quello che stiamo facendo ad esempio se guardiamo la televisione se stiamo al computer in modo che anche non accorgendo ce ne beviamo su per giù una sorta di un litro un litro e mezzo al giorno è importantissimo mi raccomando il consiglio ragazze si ricollega al primo ovvero se dormiamo male e poco ci sveglieremo sicuramente con occhiaie occhi arrossati oppure enormi borse sotto agli occhi diciamo che è capitato un pochino a tutte secondo me questo accade semplicemente perché la pelle intorno ai nostri occhi è molto molto sottile e quindi è una delle prime parti a risentire del mancato riposo quindi come terzo consiglio appunto vi invito a mettere due cucchiaini nel frigorifero qualche ora prima di iniziare la vostra skin care e appoggiarli sulle zone interessate avvertirete infatti proprio nell'immediato un piacevolissimo senso di freschezza e al contempo la vostra microcircolazione si riattiverà riducendo le occhiaie e accendendo il colore invece del vostro incarnato passiamo al quarto consiglio e qui arriviamo alla tanto famosa skin care quindi è importantissimo ripetere questo passaggio minimo due volte al giorno perché così facendo rimuoveremo lo sporco depositato sul derma nel corso della nostra giornata, lo smog e i residui di trucco che ovviamente abbiamo favoriremo il rinnovo cellulare, elimineremo il sebo e doneremo una sensazione di freschezza immediata al nostro viso io vi consiglio di utilizzare uno scrub almeno due volte a settimana e il giusto detergente per la vostra tipologia di pelle io ultimamente ragazzi sto utilizzando questo olio multifunzione della Nuxe e credetemi va bene per tutto non sto scherzando, corpo, viso, capelli è davvero un tocca sana ed è dunque secondo me un'ottima base quando voglio uscire senza trucco e non risultare stanca il quinto consiglio riguarda invece i capelli se fate parte del team doccia al mattino o doccia alla sera poco importa ricordatevi però di asciugare i vostri capelli sempre a testa in giù in modo da regalargli volume naturale visto e considerato che i nostri capelli incorniciano il nostro volto quindi pettinateli anche in modo corretto in questo modo conferirete ai vostri capelli un effetto ordinato, femminile e mai fuori posto quindi come me applicate prodotti che li rendano lucenti senza uso di piastre o ferri in particolare e ultimamente io applico verso metà capello in giù fino alla fine insomma dei cristalli liquidi che li fissano naturalmente e li rendono super super glow soprattutto adesso che è estate per il sesto step ragazze vorrei consigliarvi di focalizzarci un attimo sulla pelle del nostro viso che è indubbiamente il nostro biglietto da visita verso il mondo se mi seguite su instagram avrete visto nelle mie stories recentemente che ho ricevuto un pacchettino da sephora contenente dei prodotti di skin care in particolar modo tre maschere specifiche che voglio consigliarvi perché a parte che io le utilizzavo anche prima di questa collaborazione e sapete ormai che ci tengo a presentarvi solo prodotti e brand in cui credo comunque questi prodotti mi sono stati offerti da sephora collection ed io da sempre scusate mi pongo un'attenzione particolare sia verso il naso e qui voglio introdurvi la maschera per il naso che ho scelto al gusto ananas praticamente questa è una maschera in biocellulosa e si adatta perfettamente ai contorni del nostro naso per restringere i pori agisce in 15 minuti grazie alla sua formula arricchita con estratto di ananas di origine naturale e si consiglia di utilizzarla due volte a settimana per il risultato scusatemi per un risultato immediato e visibile questa è una maschera che mira proprio alla restrizione dei pori e uniforma la grana cutanea ok subito dopo il naso un'altra parte del nostro viso da non sottovalutare mai sono le nostre labbra anche loro come il resto della nostra pelle tende ad invecchiare con il tempo ed io credetemi non mi esimo mai 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 dalla loro cura per questo ho scelto la maschera per le labbra al burro di karité di sephora collection questa è un'idea troppo troppo carina sia da vedere che da applicare perché praticamente questo è un supporto sempre in biocellulosa ultra aderente che si adatta perfettamente al contorno delle nostre labbra rigenerandole e regalandole benefici mirati e visibili da subito nello specifico questa maschera idrata, lenisce e leviga istantaneamente le labbra e il loro contorno le ripara e le rende anche molto molto più morbide e belle senza l'utilizzo di nessuna tinta o rossetto cremoso va tenuta anche questa in posa per una quindicina di minuti e so che per noi donne sarà molto molto difficile non proferire parola per tutto questo tempo però va fatto e soprattutto per il detto che dobbiamo portare avanti ovvero chi bella vuole apparire un pochino deve soffrire perché è bene tenere anche i nostri piedini super idratati e con la maschera per i piedi alla mandorla della sephora collection lo farete anche divertendovi anche per questa potete scegliere il gusto che più vi piace perché tutte sono comunque arricchite da estratti vegetali e tutte sono come dei calzini perfettamente impermeabili e regala nutrizione e morbidezza dalle dita dei nostri piedi fino ai talloni che per noi donne si sa è una zona abbastanza critica soprattutto quando indossiamo sandali con il tacco o dei coltè per tutta la giornata andiamo avanti e come settimo consiglio mi sento di indirizzarvi verso la giusta cura per le vostre sopracciglia così come i capelli incorniciano il nostro volto anche le sopracciglia ovviamente incorniciano i nostri occhi quindi tenerle sempre in ordine e mai in mood wild vi aiuterà ad essere belle anche senza bisogno di doverle disegnare o riempire con qualche matita io utilizzo sempre lo scovolino dato in dotazione dalle matite per l'ottavo consiglio ragazze dobbiamo ovviamente completare l'armonia dei nostri occhi quindi per uno sguardo più vispo più sveglio e femminile oltre a pettinare sempre le sopracciglia è importantissimo anche pettinare le ciglia su piegaciglia che incurva tutto ma non consiglio non posso non introdurre il tema del fashion ragazzi altrimenti questo non sarebbe il mio canale comunque vi consiglio di optare per qualcosa che conferisca grazia e femminilità e che catturi l'attenzione su di voi ricordando comunque la stagione estiva arricchisco poi la mia immagine con qualche punto luce che cattura sempre attenzione e completa il vostro look a 360 gradi e niente sono pronta per uscire ultimo consiglio ragazze ma non per importanza il sorriso mi raccomando se siamo tristi giudimorali o musone possiamo essere truccate e non ma non saremo mai belle abbastanza ricordatevi sempre di sorridere perché come dicevano anche ad Hollywood già dagli anni 50 il sorriso è l'accessore più bello che una donna possa mai indossare e vedrete che brillerete di luce vostra grazie eccoci qui questi erano 10 piccoli trucchetti per essere belle anche e soprattutto senza trucco spero tantissimo che vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti quali sono invece per voi gli step più importanti da fare per essere belle perché il più delle volte mi regalate tantissime tantissime nuove idee sempre mi mando un bacione grandissimo e sempre se vi va ci vediamo al prossimo video ciao